Dalla consulenza fiscale dell'Energy, dal lavoro al banking, dall'assicurativo alla ricerca, sono queste alcune delle categorie del libro d'oro top 50 di Le Fonti. La raccolta esclusiva in formato cartaceo e digitale, che giunta alla sua quarta edizione racchiude le 50 eccellenze del mondo legale, professionale e imprenditoriale, che si sono distinte per aver affrontato e superato la crisi, per i traguardi raggiunti, per la rilevanza delle operazioni e dei casi seguiti e per gli ambiziosi progetti messi in campo. Con questa quarta edizione del libro d'oro, Le Fonti ha voluto raccontare i loro successi nei rispettivi ambiti di specializzazione. Nel mondo legale e professionale, a distinguersi sono stati tra gli altri lo studio Goli, Contina Goli nella categoria Consulenza Fiscale, Avocam Law Firm con Francesco Del Bene per la categoria Energy, Trifiro and Partners Avvocati con Federico Manfredi nella categoria Lavoro, Baccaredda Boi Studio Legale con Carlo Baccaredda Boi nel penale e 30 legali d'azienda di 10 settori industriali, selezionati dal Centro Studi e Le Fonti come leader nel loro ambito. Per la categoria Imprese e Professionisti, a distinguersi sono stati tra gli altri Generali Italia con Cristina Rostignoli nella categoria Assicurativo, Investimenti Finanza Merchant con Giuseppe Ursi nel Banking e Finance. Per la categoria Energia si sono distinti Energy Drive con Giampaolo Pavone e Angela Alfieri ed Energy Tecno con Daniel Taurino, Fabiani Yott con Maurizio Fabiani nel lusso, Davis e Morgan con Andrea Bertoni per la categoria NPL, Aies con Danilo Spada nella ricerca e sviluppo, Lubea con Giuseppe Mura nelle telecomunicazioni. Per conoscere i volti, le storie e i progetti di queste eccellenze, vi invito a sfogliare la copia digitale. all'interno del nostro sito Le Fonti Legal e dei nostri canali digitali e se volete candidarvi come eccellenza alla prossima edizione di Le Fonti Libro d'Oro Top 50 potete scrivere a presschiocciolalefonti.it